Detective Olfattivi Cercasi è la richiesta che viene dall'Agenzia Ambientale della Campania, esperti pagati per annusare aria maliodorante e scoprire le cause dei miasmi in alcune zone come la cosiddetta terra dei fuochi. Gli esaminatori di odori lavoreranno per il laboratorio di olfattometria istituito a Caserta per l'analisi scientifica dei fenomeni che aumentano soprattutto in vista della bella stagione. Impegnati in sessioni di tre ore, i detective avranno a disposizione un olfattometro che diluisce campioni di aria prelevati sul campo per sottoporre alla valutazione olfattiva.